Allora, siamo qua con Tiziana. Tiziana è una cabarettista, ma adesso è lei che deve parlare di chi è. Allora, io sono una cabarettista comica, nonché ho una compagnia teatrale a Firenze e ho rifatto il Grillo Canterino, che era una trasmissione che andava negli anni 50. Voi siete giovanissimi, quindi non ve lo ricorderete, ma a Firenze se lo ricordano e ha avuto grande successo. Poi vado a fare cabaret comico a giro, bene, per divertire la gente, per dare un buon sorriso, per fare due risate insieme, basta così, bene. Beh, questo mi sembra importante, perché far divertire la gente è un'arte, è molto più difficile essere comici che essere drammatici, quindi ti ammiro molto su questo. Ti ringrazio. Dimmi ancora qualcosa di te. Ma senti, io ho fatto la maestra di bambini gravemente indecappati, perché c'era poco da ridere, però mi piace stare con la gente, comunicare e cercare apposta di farli divertire. Tanto, dico sempre dubbi scherate e faccio la comica, la gente si diverte, non mi permetto di offendere nessuno, non parlo nemmeno di politica e mai mi azzarderei a parlare di religioni. E prendo un giro me stessa e poi magari la gente la si rivede. Ecco dov'è. Sei fantastica, dopo ti vediamo. Bene, mi vedrete in una rappresentazione dove io addirittura, io ho fatto un calendario, ma ti rendi onto e sono alta un metro e mezzo e infatti ti racconterò cosa è successo con questo fotografo dal quale mi sono presentata. Ecco, di tutti i colori sono successi. Quindi ci rivediamo tra poco. Ci si rivede tra poco. Grazie. Mi lascio a tutti, grazie a voi. Grazie.